Aspetta, ma rischio a muovermi, ma rischio a muovermi un attimino No, 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 niente, sono arrivato in una stanza e c'era Tizio che sparava, sono tornato indietro Le fughe, le fughe Salve a tutti, io sono DronGamer e bentornati su una nuova partita su Gmod ProPunt In compagnia di Camper, Fanto e Tizio20 E quest'oggi avremo una neanche troppo normale, né tantomeno tranquilla giornata in ufficio Io vestirò poi i panni del fantastico presidente Trump Beh, dalla nostra visuale non si vede, ma sono molto presidenziale e molto Trump E preparatevi veramente ad un episodio completamente fuori di testa Buona visione Salve Trump Venga qua per il colloquio di lavoro anche lei No, ero qui per fare... cioè, stavo giocando a nascondino con i miei amici Mi aiuta a farli Ah, la sua età, ma si vergogna, avanti Questa è stronza, dici? Mmm, sì, molto A qualche posto è lei, signor Fanto, che è il mio tipo genio di... C'ha l'Asperger per Gmod, a quanto pare Cosa? Non so se prenderlo come un insulto o cosa Vieni di qua Guarda, dai, ti seguo, ti seguo Occhio, eh, potrebbero spuntare da un momento all'altro Io sono appostato Uh, dove sono io? Ah no, c'è in giù, sì Ma siamo uno dentro l'altro No, no, non farei... no, è... Almeno invita mia cena prima Oh, oh Fanto! Fanto! Sono qui? Guarda qua Dove sei? Qui! Nella stanza in parte Fanto! Ah, ok, perfetto Sto arrivando qualcosa di amici che mi vedranno in piedi Ma dove siete ragazzi in tutto questo? Non lo so, la mappa è enorme! Guarda, gli faccio mezzo... mezzo gabbiano come al solito È finita, è finita No, Fanto ci si nota un attimino, attenzione What... what's sleep? C'hai scritto sulla tazza Grazie, Fanto, gli hai detto cosa siamo Ah, oh, ciao Non mi pareva una grande idea Ciao, belle! Aia! Siamo proprio noi Sì, sì Beccato tantissimo Oh, porco cane! Salve! È arrivato Tizio all'improvviso Oh mio Dio, è venuto una gratis Guarda, che roba, era lì un guato, lo sapeva, ci sentiva, ce ne usava Cosa è successo? Era che mi fissavo e volevo vedere se eravate voi o meno Tizio, è stato inquietante come scena, eh? Come che mi osservo? Ci stava fissando, what? Inquietantissima come scena Mi gira e c'è Goku che mi punta un mitragliatore, non è normale Cosa? Goku non usa più le onde energetiche, direttamente il mitragliatore I mitragliatori Dragon Ball Machine Gun Fanto, Fanto, non mi sparire, aspetta che tu conosci bene la mappa Mi fai il parkour pure Sì, esatto Aspetta, 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 ce la faccio, ho una certa età ma ce la faccio E poi io sono il presidente, scusi, qua è tutto mio, comando io Ah, ok, allora vado avanti lei, faccia strada No, no, vada lei, la guardia del porco, del corpo Del cosa? Della guardia del porco, la guardia del porco Che qua, trattandosi di Trump è comunque un termine corretto Presidente, lo vedo un po' confuso Sì, come me la vedo un po' confuso? Spesso, spesso Presidente, cosa sta facendo? E riordino l'ufficio Una poltrona Fanto, fatto, fatto, dove? Nella stanza, nel corridoio dove sta andando, non lo so Mi dia indicazioni Guardia del porco, mi dia indicazioni Ok, la vedo Cosa sta succedendo? Si fermi in nome degli Stati Uniti d'America Cosa sei? Come fai a muoverti così? Vieni qua Vieni qua Dove è? Ma cosa sta succedendo? L'ho preso Sono un film comico anni 40 L'hai preso? L'ho preso, sì Oh mio Dio Ok, diciamo che camper si dovrebbe notare un attimino adesso Ha detto, sembra un film comico Come faceva a vederlo camper in tutto questo? È vero, stava vedendo Entrate da una stanza o ci fate dall'altra E' qui, è anche l'archivio Dove, 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 dove? Trovato? Era uno schedario Si Era uno schedario con il tuo schedario Il bello è che a un tratto Sono scappato fuori Ho visto Fanto che rincorreva Civeno E io stavo dietro Fanto e non sei accorto No, davvero Stava tipo Plente dei film di Scooby-Doo, no? Dove la gente Entra la porta esce dall'altra Dov'è? Dov'è? Venga, dobbiamo fare la combo No, venga, no Il presidente non glielo puoi dire Sei una bella figa ancora ancora Combo, lei diventi quella cosa lì a fianco Mi ha buttato in giro Aspetta, aspetta, aspetta Attento perché sono delicati questi oggetti Dice, aspetti, eh Ce la fai Diventa la cosa a fianco Aspetta, aspetta Però, watch out Perché se lo rompi È la fine Non si nota, non si nota Si fidi, sono un presidente Dove sei? Ti prego, diventa subito Cosa stai facendo? Non si nota minimamente Non si abbina quella cosa Cioè, con quello che sono io Non si abbina l'uono, ok? Cerca di diventare Alla tua destra Ok? Eh? Questo? Quello Te lo scrivi in chat Ok? Ah, ok Porto cane Sto facendo Sto spancando tutto Non si noterà minimamente Si fidi Sono un presidente degli Stati Uniti So quello che faccio Credo che camper No, non si ha visto Ci abbiamo visto Oddio, sono un monitor No, salvate la tecnologia Aiuto, mi stai inseguendo tutte le parti Oddio, sono tutte le parti Oh, ti ho visto morire giusto in tempo Ho visto il cadavere di Fanto Si è spantazzato contro un muro Colpa mia, colpa mia, colpa mia Sono un presidente un po' goffo con la tecnologia Eh, vieni qua Fai fermo Vieni di qua Sai cosa vuol dire questo? Di qua potrebbe essere praticamente un posto solo Esatto Non senti taunt? Signore presidente, mi dica Che cosa vede lì Proiettato sul muro Da qui non ci vedo bene Aspetta Non leggo le scritte Sono un po' mia Get weapons Attenzione Get weapons profit Dobbiamo comprare armi Sono d'accordo Sono molto presidente degli Stati Uniti Purì Aspetta Fanto, tu controlla Io muovo le sedi Eh, quella sedia Quella sedia non si dovrebbe muovere Corco cane Becca quella sedia È un modello antico dell'Ikea Ok C'hai provato Ok Maledetto batman Militato trasformista Ora tizio è diventato un archivio gigante Tizio si dovrebbe notare un attimino Tiziuccio Saltà giù Ti prego saltà giù Saltà giù Dove sei? Cosa? Cosa? Aspetta Magico cileno Dove? Magico Il nino meraviglia Non ha visto dove c'è qua a terra? Aspetta Un quadro Di muoverti Molto ambiguo Magico Magico Me lo porta in giro Ma non mi metta giù l'arte E non fa le balle Ma è così bello Perché stanno ridendo così tanto loro? Non è che è diventato uno degli schedari? Sarebbe la tattica della vita? L'ho sentito di qua L'ho sentito di qua Come l'hai sentito? Venga presidente Da queste parti Aspetta Io vi dico una parola chiave Proibito È fuori È qua sotto sicuramente quel maledetto Come cosa hai capito da proibito tu? È proibito stare qua Buttiamo il quadro Perché è contro le regole di questa mappa Uscire dall'ufficio Uscire dall'ufficio È contro le regole Oh ma sei cieco non Fatelo dire Ma davvero? Si nota così tanto? È qui È qui Dove 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 dove? Sta rientrando dentro l'ufficio Sta rientrando dentro l'ufficio Salga sulle scale Non lo vedo È uno schedario Aspetta aspetta Io giro dall'altra parte Io giro dall'altra parte Guardalo Maledetto Granata Vai fanto vai fanto Minchia fenomeno Fare una granata Aspetta aspetta dall'altra parte a sto punto È andato? No dove è andato? È sparito Se l'aspettava Ma è qui? Dove? Si stava girando Si ma non si può Mi mette ansia Prenotatevi un controllo all'oculista Vi prego Venti come ridono maledetti Lo sto respirando Ma guardalo No che mi danno omicidio di youtuber eh Si Si posso diventare No No come Ti hai rigasato poi Uh Aspetta È tipo Oh mio dio No dai Sono troppo citoso in questo punto Ma fotte sega Ma Io ho un problema Eh Forse solo quello Sono solo uno Sei ottimista Solo uno Minchia modesto È diventato Io sono in sgammabile Potrei stare qua dietro Non dovevo dirlo Mi sa Qua dietro No Non so ma Vediamo se becco qua Ho l'impressione che qualcuno Porco cane Come hai fatto? Ti prego così eri Sì ma È una bestia Cileno cos'era Era qualcosa Fanto ti va di culo Che non si nota minimamente Era qua Meno male Dai dimmi Cosa minchia Ah Era qui dietro Sì vabbè Ha visto solo la roba Che si muoveva Lui spara così Esatto Partono i gabbiani Sì ma Oh Ero tranquillo Dietro i distributori In quel momento Esco un attimino E neanche a farla apposta Tizio era venuto A prendersi la merendina Era buona Che ciccione No camper No T Fanto è stato un errore Fanto è stato un errore No Un grosso errore Come si è girato Appena Era una grossa scatola Di gabbiani Fanto dimentica Che ho le cuffie Come le sue E sento benissimo Oh mio dio Sai cosa sto pensando? Questo oggetto È geniale Per la prossima Fanto Ok Teniamocelo buono Buono dai Pensa se loro erano Proprio lì E ci hanno beccato in pieno Spero di no Qualcosa mi dice Che sono in ufficio Dici? No Ma non mi dire Qua non c'è mai stato Un archivio Bravissimo Non c'è mai stato Un archivio qua Bel tentativo Ok allora Diciamo che automaticamente Il fior camper Si nota Ma oh Oh mio dio Cosa è diventato camper? Camperuccio Ridono loro È quello che mi inquieta Il fatto che ridano Lo Non A parte che Goku È morto malissimo È la faccia di qualcuno Che ha visto cose brutte Nella sua vita Lo Dimmi Guardi del sangue Qua sul muro Non ci dovrebbe essere In effetti Sì Mi sa che era Eccolo 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 Dove è andato Dove è andato Guardalo Guardalo come fugge Mamma mia Beccalo di là Beccalo di là Eccolo Eccolo qua Dove è andato Eccolo 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 Preso Occiso Bacca di nuovo Maledetto Cireno Bastardo Cos'eri prima Cos'eri prima Mi sa Come il razzismo Cos'eri camper Prima di diventare Un archivio Era un Bellissimo Era un bellissimo Rotolo di carta igienica Messe in un angolino Fanto Fanto Vai 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 Dove abbiamo detto prima Dobbiamo correre tanto Dobbiamo correre perché abbiamo 20 secondi Mi seguo Trump Sai dove Ok Però qua c'è solo un modo Dobbiamo spaccare Spaccare Il culo Ok Ce la facciamo Ce la facciamo In teoria si 10 Sono già nel punto Sono già nel punto Anch'io Ragazzi voi siete Non siete saliti Proibito Molto proibito Eh lo so che siete proibiti Mortacci vostra Perché vi ho sentito Come ci hai sentito Eh mi siete trasformati Tipo alla mia destra Non è vero mai Non è vero mai È verissimo È un'impressione È un'impressione Non si può Non si può Non si può Però Oddio Chi spara Ciao Come state Cos'è Cos'è Ai 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 Venite qua Chi spara No Non gengo Maledetti rompi i coglioni C'è battito Ma guardagli la faccia Sono due barattolini Ho paura Ho paura Sono bloccato Oddio Ah Mi hanno pigliato Oddio è morto Oddio è morto malissimo Fanto sei vivo Sì Io sì Io sono morto malissimo Devo fare del parkour L'unico modo per salvarmi del parkour Ce la puoi fare Fallo per il tuo presidente Sono troppo basso Devo crescere No vabbè ma cresci Santo cielo Io non ce la faccio dopo Pochi centimetri Devo assumere guardie più alte La prossima volta Mi sa Il piccolo Fanto Mi salverà Dove stai andando? Geniale Non lo so Vado nei punti No mi piace Ce la possiamo segnare Per le prossime Per la prossima volta Ah ho sentito una trasformazione Corri corri Fanto Corri Fanto Ma porco cane Che sfiga Ma che orecchio c'ha? Sono tipo Dark Devil Una roba incredibile Davvero Aspetta 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 Ok ce l'ho fatta C'avevo l'ansia Dov'è signor Trump? Eh Sono in ufficio Ce l'ho dei documenti da firmare Guerra da dichiarare Muri da costruire L'unico modo in cui potrebbero beccarmi E' uccidendo te Credo No 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 Sono in un buon punticino Guarda faccio pure un gabbiano Si che l'ho sentito Guardalo Come avete sentito? No non avete sentito niente? Eh i gabbiani li ho sentiti io Qua si muove qualcosa Come? Da dove mi hai visto? No da dove? No E' morto Fanto? Cos'era? Sei un genio No Fanto sei un genio Sono un filastro Letteralmente sei un genio Cioè se non ti notano così Non ti notano più Ciao Batman Ma Per palo? Perché agli alberi? Guardali guardali tranquilli Loro che sparano i pali Posso essere un albero? Ma perché le granate agli alberi? Sono morto Si Non era un buon momento per farla Cosa? Cosa? Non ci credo mai nella vita Non ci credo mai nella vita Davvero? No davvero Incredibile Faccio il vigilo nello scritto E per sempre L'ho uccito Non ci Come è possibile? No Vabbè Non ci credo Dai ho fatto per il gabbiano Mi sa che Batman Non c'è bisogno degli occhiali Comincia a avere un certo Sentire l'età Dall'uculista Te la devo fare a testa Ah ragazzi Il Batman ha un paio di battocchiali però Confido in questo Sei bagatissimo secondo me Non è vero No per niente anzi Ciao Gabb Era bellissima Non ci sto credendo Dove cazzo E' stato lì tutto il tempo Ma era grigio sul grigio Non si vedeva Bellissimo Allora Signor Trump Sono fuori qua Fa pausa sigaretta Ma Trump non dovrebbe fumare Cioè che esempio dai bambini No era una pausa pipetta Ma vabbè Non è che posso dirlo Con tipo in diarezza Allora E c'ho amore da dare al mondo Non mi giudichi Vediamo un po' Controllerei sempre Sto spaccando Perché spaccando No ho toccato un telefono esploso Era una linea molto calda Cos'è sto copo? No Era girato Cosa dove? C'era un quadro girato di spalla Attaccato al muro Stranissimo Ci sono passato davanti Aspetta Sì ci sono passato davanti Ci sono passato davanti Il punto è che io volevo entrare Nella fessura tra Non puoi Entrare nella fessura Ma perché escono bottiglie Signor Trump ha ordinato una bottiglia Cileno pensi di essere simpatico? Lascio affare a lei signor Trump Eh ma io sento odore di gnocca ed extracomunitari Purtroppo con i quadri no Ci sono quadri fatti magari In parti povere del mondo Signor Presidente mi sta diludendo Davvero? Tantissimo Tantissimo Tanto tanto? Ma tanto tanto Non è un pelo Eh si vede che Eh ho c'ho una ceratetta anche io Portate pazienza Io sto impenendo tutto di bottigliette Ma qua Cioè ci viene a fare un casino Della madonna Dove passa A buttare per aria roba Cosa? Eh seguito Eh eh Buongiorno Torni in ufficio Ma dimmi te Sti schiedari che si prendono le paude sigarette Ma tutti camminano davanti Morto malissimo peraltro Noi puniamo severamente i dipendenti Due granate Una e una dopo essere morto Io cuoto la morte Io ne avevo i due Nei primi due minuti Oddirittura Così tanto fiducioso lei Un minuto Dov'è signor Trump? Sono in un bel posto Dove? Eh non è male Sono in ufficio Ma è un bel posto in effetti Non mi imbeccheranno mai Cheat Cioè se non squillo Direi che non mi imbeccheranno mai Dove sei? Lone gamer Aspetta ma rischio a muovermi Ma rischio a muovermi un attimino Aspetta Non so perché ti vengono in colpi No 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 niente Sono arrivato in una stanza C'era Tizio che sparava Sono tornato indietro Le fughe Le fughe Sto per superare il limite di due minuti Previsto da Tizio Ah sì E salvo Salvi No Scommessa versa Ci offre la cena Grazie Tizio Cavolo Cavolo Una birretta easy Ok dai Vedo gente che disfa uffici Ma siamo a posto Non proprio sopra sopra Però sono tipo occultato da Dai do un indizio Un indizio veloce Ho rischiato tantissimo Ho rischiato tantissimo Au È finita Cos'eri? Eri un telefono su una foltrona Tranquillo Fare i gabbiani in quel momento è stata una pessima idea Lo so lo so lo so volevo stuzzicare un attimino Beh non ti si nota Sono magico No ma davvero sei stato È tutto grazie a Tizio perché è stato Tizio a mettermi in questa position Ma davvero? Guardalo È qua sopra Guardalo Che è irredibile Di cosa vada Però Porco cane Le bombe a mano a quanto pare Servono le bombe a mano Praticamente ero una tastiera Ho sparato al computer che si è cappottato sopra di me E mi ha occultato Geniale Poi mi ha ucciso Hai ucciso l'one e sono diventato un telefono dentro la scheda madre Dove schede madri con telefoni inclusi So già dove può essere Addirittura così Guarda Sparo una ganata a una nucche e lo prendo Quanto ci fai? Ok Ti do il posto di presidente degli Stati Uniti No è tutto pulito È tutto pulito L'unico archivio Presidente degli Stati Uniti Cos'hai fatto? Era l'unico archivio non nero Non ci credo mai nella vita Non è Non aveva le ombre Non so perché Facciamo così Ti lascio la carica di presidente degli Stati Uniti Per il prossimo fine settimana Grazie Oddio vado al mare Fin presidente Io faccio lo youtuber per il fine Aspetta Fanto Fanto vieni di qua C'è uno schedario che corre Fanto aspetta Prima di ucciderlo Vieni 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 Sì c'è uno schedario che corre L'ho perso per una fazioniccia Ehm Ah Già Sì Giusto un attimino eh Giusto un attimino si notava Fanto Fanto rito Vecca vengalo giro da un'altra parte io Dov'è? Dov'è? Sono strizzate Tutti che ridono Sono preoccupato Rega no Eccolo di nuovo qui Di nuovo qui C'hai provato Gumper Cioè si è rimesso nello stesso punto Eugenio Non l'avremmo mai cercato lì Se non mi troviamo Mannaggia la puttana Ah è stata una bella giornata in ufficio comunque È finito Usciamo a timbrare il cartellino E si conclude qui La nostra traumatica giornata in ufficio Ma ancora una volta Il presidente Trump Ne è uscito vincitore Beh più o meno Abbiamo fatto un bel po' di figure di merda Ma diciamo più o meno Ok? In descrizione Trovate ovviamente I canali degli altri youtuber Mi raccomando Fate un salto anche nel loro canale Ma purtroppo Direi che per questo episodio è tutto Quindi lasciate un bel mi piace Per continuare la serie Condividetevi di favoritare il canale a crescere E noi Ci vediamo nel prossimo episodio Ciao ciao